Qui abbiamo il povero Rochi, lo chiamiamo il povero Rochi perché un cane così bello non è giusto che vi sia dentro un box di canile, non è giusto assolutamente. Non ha una particolare incompatibilità con altri cani, lo tengono da solo per precauzione ma è stato portato fuori dalle nostre educatrici, lo abbiamo visto nel prato insieme con delle femmine. Lo vogliamo bene con una bella femmina in una casa con giardino, è un cane perfettamente gestibile, buono, bravo in canile sciupatissimo, sciupatissimo perché è stressato dall'ambiente ma è un cane che meriterebbe davvero di avere una nuova famiglia, di avere una nuova situazione di vita di poter vivere finalmente fuori da quel box. Adottate Rochi, cane bellissimo!